Oggi, signore e signori, è il Tiago Motta Day, perché se ieri ha firmato il contratto che lo legherà alla Juventus come nuovo allenatore, oggi ci sarà l'annuncio ufficiale da parte del club. E no, me ne siete accorti da soli, ma la mia voce non è migliorata rispetto a ieri. Devo comunque mandare avanti questo spettacolo perché è il momento caldo del calciomercato della Juventus e quindi parleremo ancora una volta di quello che sta succedendo alla Juve perché ci sono delle novità croccanti. Intanto vi ringrazio per tutto il supporto della giornata di ieri, è stata intensa, oggi lo sarà altrettanto, sono successe tante cose, ci sono state delle trattative che sono sbocciate e sono diventate idee concrete, attendiamo di vedere se andrà in porto quella per Douglas Lewis della Stonevilla, c'è da limare qualcosa ancora sulle valutazioni di McKennie e Eiling ma il giocatore sta trattando, anzi dovrebbe aver già deciso, già trattato i termini economici con la Juventus, sono molto curioso di leggere perché da questo punto di vista le informazioni che arrivano sono abbastanza distanti, c'è chi parla di 4 milioni e mezzo, chi parla di 6, addirittura qualcuno che parla di 7, secondo me 6-7 sarebbero tanti per quello che è il salari capo interno che si è promessa la Juventus, mi immagino quanto più una trattativa orientata verso i 5, magari 5 con dei bonus raggiungibili, sono curioso anche di sapere questa cosa qui e voglio sapere le vostre opinioni e mentre attendiamo quella che dovrebbe essere l'ufficialità di Tiago Motta nella giornata di oggi, ragioniamo sulla batteria di esterni perché non è un mistero, Chiesa e Sule sembrano giocatori destinati ad uscire dalla Juventus, sta uscendo anche Iling quindi la Juventus dovrà cercare di rimodernare anche quella zona di campo e se Chiesa sembra orientato ad andare o alla Roma o al Napoli e Sule invece sul mercato e si attende una buona offerta da parte di alcuni club che si sono dimostrati interessati al ragazzo nei mesi scorsi, la Juventus sta iniziando a ragionare su quelle che potrebbero essere le alternative, c'è Greenwood nel Manchester United, ne abbiamo già parlato tanto che sembra aver dato la priorità ai bianconeri quindi vedremo se poi questa trattativa andrà in porto perché metti il caso che poi Sule non verrà ceduto alle cifre che si aspetta la Juve, difficilmente secondo me si riuscirà ad affondare il colpo su Greenwood che ha una comunque valutazione elevata, la Juventus sta cercando di abbassarla per non pagare quello che dovrebbe essere un colpo da 50 milioni, se vorrebbe andare più intorno ai 30, però bisogna anche vedere se lo United è disposto a fare questa cosa sappiamo che la volontà del calciatore è sempre molto importante soprattutto nel calcio di oggi quindi Giuntoli sta lavorando ai fianchi anche dello United per questa trattativa sappiamo che Greenwood è un nome molto particolare per quello che è successo a extracampo e io mi sono già espresso sull'argomento, nella giornata di ieri è venuto fuori anche il nome di un altro esterno spesso costato alla Juve, cioè quello di Berardi, io credo che Berardi possa essere nel caso quell'opzione veramente last minute e di risparmio perché stiamo parlando di un giocatore che è retrocesso in Serie B col Sassuolo e che quindi avrebbe tutto il diritto di chiedere al Sassuolo di essere ceduto ma stiamo parlando anche di un calciatore classe 94 quindi al suo trentesimo anno di età che nell'ultima stagione è stato vittima di tanti infortuni non ultimo quello al tendine Achille che è un infortunio abbastanza importante di quelli che permettono una lenta ripresa dell'attività agonistica e che magari non riportano il giocatore proprio al suo massimo storico quindi secondo me Berardi potrebbe essere un nome preso in considerazione alla Juve proprio a un prezzo di saldo ben distante da quei 30, 25, 40 milioni di cui si era parlato anche solo nell'estate scorsa a quelle cifre non mi avvicinerei nemmeno a un Berardi di questo tipo, un Berardi che è retrocesso e un Berardi che sta male dal punto di vista clinico, io sono anche dell'idea che il Sassuolo con Berardi non sarebbe retrocesso quindi un giocatore che in Serie A fa ancora la sua porca figura ma non deve assolutamente essere visto come un titolare questo è un discorso che facevo l'anno scorso e adesso aggiungo non deve nemmeno essere visto come un investimento importante, non può. Sullo sfondo si è parlato anche di Zagnolo perché Zagnolo è stato proposto alla Juventus anche qui la Juve non deve vederlo come titolare se lo aggiunge nella batteria degli esterni come riserva è assolutamente un nome interessante, un giocatore che negli ultimi anni ha girato tanto senza trovare la sua posizione e forse anche la sua consacrazione definitiva alla Juve potrebbe trovare un ambiente di quelli un po' più ferrei magari un po' più rigidi il giocatore potrebbe aver bisogno di sentirsi veramente un atleta però non deve essere visto nemmeno lui come un colpo importante del mercato della Juve al massimo come un'aggiunta e stiamo parlando di Berardi e Zagnolo che in realtà sono giocatori che negli estati precedenti venivano visti come dei veri e propri colpi di prima linea ecco questo dà anche un po' la direzione e la dimensione di quello che è il tipo di mercato che vuole fare la Juve, un mercato importante che mette al primo piano altre tipologie di giocatori e quelli che invece sono sempre stati in orbita diventano giocatori di contorno attenzione però attenzione a Zierzee attenzione a Zierzee poi non significa che arriverà come attenzione a Coppemainer su uno o l'altro perché Tiago Motta vuole un giocatore con quelle caratteristiche nel 4-2-3-1 qualcuno potrebbe dire ma con Tiago Motta faceva l'attaccante sì è vero probabilmente perché il Bologna per la tipologia di squadra che aveva Zierzee lo meglio più avanti e tra le linee era meglio utilizzare Ferguson fosse stato ancora Arnautovic magari al Bologna chissà magari Zierzee avrebbe orbitato in quella posizione già con Arnautovic potrebbe anche essere una lettura io sono dell'idea che Zierzee sia una bellissima occasione perché c'è questa famosa clausola da 40 milioni che è relativamente bassa per un giocatore con il suo talento con la sua potenzialità quindi ci sta che il Milan si stia informando ma c'è un rallentamento lato commissioni e dato che ieri proprio ieri Giuntoli ha parlato con Kia che è l'agente di Douglas Lewis per arrivare alla conclusione di questa trattativa Giuntoli avrebbe buttato lì sul tavolo la domanda ma alla fine Zierzee Milan è concluso e la risposta sarebbe stata è conclusa se paga le commissioni ma in questo momento il Milan è ancora un po' lontano da quei 10-15 milioni di commissioni richieste e allora se la volontà era Coppemainer se l'Atalanta fa muro con una valutazione elevata e se il calciatore in questo momento ha anche subito uno stop che potrebbe complicare magari un po' la trattativa potrebbe ostacolare le visite mediche e robe del genere e sicuramente non abbassare la valutazione perché le valutazioni non si abbassano al limite si alzano chissà che non possa essere un'opzione interessante anche se dal mio punto di vista Coppemainer sarebbe ideale per la Juve perché è più un centrocampista stiamo parlando di Coppemainer che ha orbitato nella zona a tre quarti campo ma che la finale di Europa League l'ha giocata da mediano al fianco di Ederson e Zierzee che invece ha giocato centravanti per tutta la stagione poi la zona ideale per tutti e due secondo me è quella della tre quarti perché sono due giocatori che potremmo quasi etichettare come fantasisti quei giocatori che sono pericolosi tra le linee quindi li vedo entrambi benissimo nel 4-3-1 ma se dovessi scegliere io andrei a dare la priorità a Coppemainer perché può occupare anche delle zone centrali del campo poi attenzione perché potrebbe essere la volontà della Juventus di mettersi avanti nei confronti di quella che potrebbe essere la cessione di Dusan Vlaovic perché Vlaovic lo sappiamo ha un ingaggio molto elevato un ingaggio a salire un ingaggio proibitivo il più alto in questo momento secondo me della Serie A o comunque giù di lì si parla di 12 milioni che può raggiungere Vlaovic quindi come Vlaovic è sempre un nome di quelli che va tenuto d'occhio non per questa sessione di calcio mercato bensì per la prossima e quindi mettersi già in casa un giocatore che potrebbe poi anche giocare come tra virgolette Falso Nueve come ha fatto in stagione col Bologna quest'anno potrebbe essere una buona scelta potrebbe essere una buona idea quindi potrebbe semplicemente giuntoli andare un po' in avanti così come potrebbe essere semplicemente una manovra di disturbo di Kia per cercare di far muovere il Milan da questa posizione di stallo e fargli pagare effettivamente questi milioni di commissioni direttamente alla gente tra l'altro ho letto un articolo questa mattina che mi ha riportato un po' alla memoria alcune cose cioè Kia che è stato anche l'intermediario del Manchester City che voleva acquistare Kakà a gennaio ricorderete poi Kakà che alla sede del Milan sventola una maglia e dice resto qui eccetera eccetera salvo poi partire direzione Madrid qualche mese dopo e l'anno successivo sempre a gennaio con Pato che poi rimane al Milan per il discorso legato a Barbara Berlusconi e quindi non va al PSG ci sono stati quelle annate lì in cui il Milan in inverno subiva delle offerte degli attacchi da parte dei club che stavano iniziando come il City e il PSG ad affacciarci sul mercato europeo alla fine Pato rimane e non se ne fa niente nemmeno di Tevez c'è quella famosa foto con Galliani, Kia e Tevez in un ristorante mentre Galliani stava trattando proprio l'arrivo di Carlitos al Milan a gennaio come eventuale sostituto di Pato cosa succede poi in quel momento lì? Si inserisce la Juventus, Tevez arriva a Torino, diventa il nuovo numero 10 della vecchia signora e lì inizia una storia anche secondo me corta ma bellissima tra Carlitos e la Juve un giocatore che veramente ho adorato tantissimo abbiamo visto purtroppo per pochi anni però ancora una volta corsi e ricorsi storici il Milan che tratta dei giocatori importanti con Kia e la Juve invece che va a informarsi va a fare delle azioni di disturbo vediamo se saranno verificate oppure no può essere ripeto banalmente il gioco delle parti per mettere pressione al Milan ma non sarei sorpreso di vedere una Juve che va su Rzirze perché ribadisco la clausola è oggettivamente bassa, quei milioni di commissioni magari possono essere anche attutiti con altri assistiti dato che appunto ieri c'è stata questa trattativa legata ad Aglas Luiz con Giuntuli ci sono buoni rapporti e quindi mai dire mai perché potrebbero accadere un po' di cose simpatiche ragazzi can down attivato nel pomeriggio dovrebbe esserci l'annuncio di Tiago Motta come nuovo allenatore della Juventus e sicuramente faremo un video anche su questa cosa per reggere tutti i dettagli e il modo in cui la Juve andrà ad annunciare il suo prossimo allenatore ciao a tutti